Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri e lo sconto è accumulabile con tutte le iniziative in corso. La maglietta potteriana che ho indosso oggi è naturalmente di Pampling e in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon, dove ho realizzato un negozio in collaborazione con Amazon, con tutti i prodotti potteriani scelti da me e anche di tanti altri fandom. E ragazzi, però adesso vando alle ciance e cominciamo col video di oggi perché ho una montagna di cose da raccontarvi. Intanto, come vedete, qui accanto a me ho una stampante 3D. La stampante 3D è un acquisto che volevo fare da tantissimo tempo, volevo farlo da anni, fin da quando sono uscite le prime stampanti a filo, quelle lì a PLA se non sbaglio, dove ci sono queste bobine di filo di plastica che man mano va fuso e la stampante crea i vari oggetti. Però non mi hanno mai convinto tantissimo perché queste stampanti non hanno una definizione altissima o perlomeno non l'avevano qualche anno fa e quindi non l'ho mai acquistata. Ultimamente ho guardato tantissime recensioni su YouTube, ho guardato tantissimi blog su comunque la stampa 3D e ne è venuto fuori che una delle migliori stampanti 3D ad oggi in commercio è quella di Iligo ed è una stampante 3D a resina, quindi non col filo di plastica per intenderci, ma va utilizzata la resina liquida che adesso vi andrò un po' a spiegare meglio. Ma prima di cominciare il tutto ragazzi voglio ringraziare tantissimo Iligo che ha deciso di regalarmi questa stampante e questa bottiglia di resina per provare a stampare della roba potteriana così da potervela mostrare. Io ve lo dico in tutta sincerità, stavo per acquistarla davvero, mancava pochissimo, l'avevo già messa nel carrello, poi mi sono messo in contatto con Iligo e ragazzi loro mi hanno offerto di inviarmela e quindi eccola qui. Questo non è l'ultimissimo modello perché l'ultimissimo è la Iligo Mars 2 Pro che a differenza di questa è solo leggermente più veloce nella stampa ed ha il piatto di stampa leggermente più grande, ma comunque le prestazioni, la risoluzione è esattamente uguale a questa qui. E ragazzi questa stampante qui non ha neanche un costo altissimo, la trovate su Amazon, vi lascio il link in infobox, al momento sta attorno ai 210€ e Iligo è stata così gentile da fornirmi anche un codice sconto per voi da poter utilizzare direttamente su Amazon, quindi trovate comunque tutti i link utili in infobox. Ma detto questo, come funziona questa stampante 3D? In poche parole, ragazzi, ci sono riuscito io nonostante nei primi due giorni abbia tirato giù un po' tutti i santi dal paradiso perché ho commesso degli errori ma è stata tutta colpa mia, però alla fine sono riuscito a stampare e ci ho preso decisamente la mano e vi mostrerò a breve cosa sono riuscito a stampare. E come funziona una stampante 3D? In poche parole abbiamo questa stampante che va messa in un luogo areato perché comunque la resina è tossica quando è ancora allo stato liquido e quindi va messa magari in una stanza ben areata, su un balcone, però l'importante è che sia protetta dai raggi solari. E andiamo a vedere meglio come funziona. In poche parole togliamo la calotta di protezione. Ecco qui la nostra stampante. Abbiamo questa vaschetta qui che ha il fondo che io già ho praticamente rovinato, infatti dovrò cambiare per vari errori miei, ma comunque funziona in ogni caso nonostante l'abbia rovinato parecchio. Ha questo fondo che credo sia in teflon e qui nella parte interna della vaschetta c'è anche un livello max segnato dove va versata la resina, quello è il livello massimo, perché altrimenti poi il piatto scendendo all'interno della resina andrebbe a far traboccare fuori tutto. Quindi non superate mai la linea del massimo. Qui sul fondo abbiamo un pannello LCD. Questo pannello non fa altro che proiettare sotto la vaschetta i vari layer, i vari strati dell'oggetto che dobbiamo andare a stampare. E questo oggetto resta attaccato qui sul fondo del piatto. E man mano, facendo su e giù, su e giù, per qualche ora, si andrà a comporre il nostro oggetto che poi noi andremo a staccare da questa piastra e a immergere in acqua. E questa è una cosa molto molto importante. Perché? Perché le resine, fino a poco tempo fa, erano tutte da immergere in alcol isopropilico. E questo alcol, oltre a essere molto tossico, questo alcol costa anche parecchio. Mentre invece Illigo ha lanciato sul mercato queste resine lavabili ad acqua. La cosa importante, ragazzi, ve lo dico, dovete sempre utilizzare mascherina durante la stampa, durante la preparazione. Mascherina, una FFP2, una mascherina, che comunque loro vi danno anche in dotazione. E dei guanti, ragazzi, importantissimo. Non toccate la resina a mani nude, non respiratela, non mettetela a contatto con la pelle, con gli occhi. State molto attenti, perché comunque bene non fa. E quindi, in poche parole, adesso, grazie a questo tipo di resina, che esiste in tantissime colorazioni, possiamo andare a prendere il pezzo, staccare il pezzo dal nostro piatto, con una paletta che è sempre in dotazione. Adesso vi farò vedere tutto il corredo che arriva con la stampante. Si immerge in acqua per dieci minuti, si lava per bene, poi si asciuga per bene con un po' di scottex, e bisogna mettere il pezzo stampato in cottura, in cura, si dice così nel gergo, e, in poche parole, va messo sotto una lampada UV. E può essere o una lampada UV, come quella che ho comprato su Amazon e che dopo vi mostrerò, o, semplicemente, ad esempio, un fornetto per le unghie. Va messo sotto la luce UV per circa dieci minuti, e poi il pezzo è pronto per essere lavorato, se volete colorarlo, se volete lasciarlo così com'è, eccetera, eccetera. Ma come si preparano i file? Potete, se siete in grado, o realizzare direttamente voi, tramite vari programmi di scultura 3D, gli oggetti da stampare, ma, in ogni caso, il file 3D va, prima passato, in un programma, un software, che viene fornito con la stampante, che si chiama C2Box. Questo software è molto, molto intuitivo, molto semplice. Voi andate ad aprire il vostro file dell'oggetto che volete stampare, e andrà a cadere in automatico sul piatto di stampa della vostra stampante virtuale. E voi lo andrete a ridimensionare, se magari questo oggetto è troppo grande. E, di lato, sulla sinistra del programma, troviamo tutti i vari comandi per andare a ridurre o ingrandire le dimensioni dell'oggetto, per inclinarlo, e, una volta posizionato sul piatto di stampa, io consiglio sempre di stamparlo con un angolo di 45 gradi, si va ad aggiungere i vari supporti. Io li aggiungo sempre di dimensione media e li aggiungo in automatico. C'è un comando automatico, che si chiama Tutti, dove va ad aggiungere tutti i vari supporti in automatico per la stampa, perché poi, alla fine, il pezzo va staccato da questi supporti, che io adesso vi mostrerò. Questi, ad esempio, sono i supporti di uno dei miei pezzi. Questi, alla fine della stampa, vanno cestinati, vanno buttati. Ragazzi, mi raccomando, una volta finito di stampare, svuotata la vaschetta con la resina, e puliti i vari pezzi in acqua, Non buttate l'acqua nel lavandino, nel water, o comunque nelle piante, perché quell'acqua contiene della resina, che è tossica. Quindi, la cosa più giusta da fare è prendere quest'acqua, chiuderla magari in una bottiglia, e portarla nella vostra città, nel centro di smistamento, dove si vanno poi a riciclare queste cose. Per esempio, a Catania ne abbiamo più di uno, si va a consegnare questa bottiglia, dove appunto si vanno a portare questi rifiuti pericolosi. Magari li accumulate da parte, e una volta ogni tanto li andate a portare lì. Perché, davvero, non buttateli nel water in questi posti, perché non fa per niente bene. Ma, detto questo, cosa va fatto una volta messi i supporti? Si clicca su Slice, e si va appunto a elaborare il file adatto alla stampante, dove si vanno a creare tutti i vari livelli. Una volta creato questo file, va inserito nella chiavetta, che viene data anche questa in dotazione, si va a inserire nella porta USB che c'è qui davanti alla stampante, che ha anche uno schermo touch, che, ragazzi, è molto molto comodo. La stampante prima della prima stampa va calibrata, ed è molto molto semplice. Si toglie la vaschetta, si inserisce un foglio A4, ma è spiegato nel libretto di istruzioni. Ci sono anche molti video su YouTube dove viene spiegato, è molto molto semplice. Va inserito un foglio di carta sullo schermo LCD, si clicca sul tasto Home, la casetta, e in quel caso si allentano queste due viti, si va a far salire e scendere in automatico questa piastra qui sul foglio di carta, poi si vanno a ristringere nuovamente questi due bulloni, più che altro non sono proprio delle viti, e una volta stretto e livellati questi assi, si va a dare lo zero sull'asse X, e una volta fatto questo è pronta per la stampa. Si inserisce il piatto, si versa la resina, si attacca il pennino USB qui davanti nella stampante, si seleziona il file, si mette la calotta, si aprono le finestre, e poi apparirà un timer con scritto quante ore mancano alla fine della stampa. Io ho stampato diverse cose che adesso vi mostrerò, è la media di circa 3, 4, 5 ore, diciamo dipende dal pezzo, io ho fatto una cosa anche abbastanza grossa divisa in tre parti, che adesso vi mostrerò. La prima cosa in assoluto che io ho stampato è questo qui, è una pedina degli scacchi magici di Harry Potter, e voi direte dove l'hai trovato il file? Ragazzi, io non sono capace di creare file in 3D, quindi sono andato un po' a sprucciare su internet, ci sono diversi siti che offrono sia dei file a pagamento che gratuiti, questo era un file gratuito, e li potete trovare o su My Mini Factory, ad esempio che è un sito molto molto fornito, con tantissima roba nerd da poter stampare, o ad esempio anche su Thinkiverse, che è uno dei siti più grandi e forniti a livello di stampa 3D, ma ce ne sono anche tantissimi altri, io esattamente non ricordo dove ho trovato questo, ma c'erano i file di tutti gli scacchi, che non sono gli scacchi magici di Harry Potter, anche se li abbiamo visti nel primo film, sono quelli che usano Harry e Ron durante le vacanze di Natale, quando giocano nella sala grande, sono gli scacchi dell'isola di Lewis, quindi è una scacchiera realmente esistente, una scacchiera forse la più antica mai ritrovata, che si trova in Inghilterra, se non sbaglio, proprio al British Museum, ma di questo non sono sicurissimo, andatevi un po' a documentare su Wikipedia, se siete interessati, e c'erano i file di tutti i pezzi, io ho stampato il re, il re che mi è riuscito alla seconda stampa, la prima ho fatto un casino, avevo sbagliato la calibratura, non avevo capito alcune cose, e quindi la stampa è fallita, non si è attaccata qui al piatto, che poi va estratto, troviamo il pezzo attaccato appunto qui sul fondo, e ragazzi è successo un casino, ho dovuto ripulire tutto, ho quasi rovinato anche il foglio di teflon che c'è sotto nella vaschetta, ma al secondo tentativo è andata bene, e ragazzi come era stampato, avevamo questi supporti qui, attaccati dietro al pezzo, e il pezzo era attaccato qui, sul fondo della piastra, era esattamente così, poi va staccato con una spatolina, vanno rimossi i supporti, che vengono via molto molto facilmente, e ragazzi ecco qui il pezzo, dopo la lavatura, la cottura sotto la lampada UV, eccolo qui, io naturalmente non lo lascerò così, ma non ho stampato solo questo, perché poi ci ho preso la mano, ed ho inserito ben quattro pezzi, tutti in una volta nella piastra di stampa, ed ecco che abbiamo questo che è un alfiere, poi abbiamo anche questa che è la regina, e l'abbiamo vista molto bene nel film, ma anche ecco qui il cavallo, l'alfiere, e poi abbiamo anche questa che è il pedone, ne ho stampati cinque in totale, tanto per metterli nella mia collezione, e gli andrò a colorare alcuni rossi, e alcuni bianchi, come appunto nel film di Harry Potter, quando ci ho preso ancora di più la mano, ho stampato una cosa in tre parti, e ragazzi, è venuta magnificamente, ho stampato questo, il calice di fuoco, non avevo una riproduzione del calice di fuoco in scala, non avevo completamente, perché non esistono praticamente in vendita, se non cose in metallo, e ragazzi, eccola qui, l'ho stampata in tre parti, adesso vi mostrerò qualche immagine, e era così suddiviso, questa parte era un file, questa qui centrale della base era un altro file, e poi il tronco era un altro file ancora, e ragazzi, questo era praticamente in dimensioni naturali, ma io l'ho scalato al 27%, perché è la dimensione massima che sono riuscito ad inserire per ogni pezzo nella piastra, tramite il programma C2BOX, li ho inclinati tutti di 45 gradi, ho messo i supporti automatici, e ho impiegato circa 15 ore per stamparlo, 5 ore per ogni parte, però ragazzi, il risultato è davvero bellissimo, io adesso ve lo mostrerò meglio da vicino, come potete vedere, non si notano assolutamente i vari livelli, i vari strati della stampa, a differenza della stampante invece a PLA, perché lì si notano tantissimo i vari strati, che vanno poi carteggiati, magari stuccati, mentre in questo caso, è già perfetto così, non c'è assolutamente nulla che non vada, è super super liscio, la qualità di stampa è altissima, e adesso io questo lo andrò a dipingere come se fosse di legno, o almeno spero, perché non l'ho mai fatto, ma ci proverò, perché così in rosso non mi fa impazzire, e come vi dicevo, iligò mi ha mandato questa bottiglia da 500 grammi, che ancora contiene un po' di resina, ce n'è ancora abbastanza all'interno, e io ho stampato questo calice, che comunque ha richiesto molto, molto tempo, e anche un bel po' di resina, nonostante questa parte sotto, che è bella grande, ma è comunque cava all'interno, quindi sono solo le pareti esterne, ad essere state stampate, mentre invece la parte qui centrale, l'ho svuotata, e ho creato dei fori nella parte inferiore, e questa parte qui, invece, è tutta piena all'interno, nonostante qui il calice sia comunque cavo, i tre pezzi, li ho uniti semplicemente con della, con dell'attac, con della colla semplicissima, e ragazzi, davvero, sono super super contento, ho trovato tantissimi altri file da stampare, una cosa che vorrò fare a brevissimo, quando comprerò della resina, magari di colore bianco, voglio stampare la candela, del prigioniero di Azkaban, quella a forma di colonna vertebrale, quella è davvero bellissima, esiste il file, l'ho trovato, e nella parte superiore, c'è anche l'alloggio, per inserire una candelina, una T-Lite, non so se inserirò mai una candela, all'interno di una cosa stampata, in resina, non mi sembra un'idea brillantissima, però comunque, mi piace moltissimo, l'effetto di questa candela, che voglio aggiungere fortissimamente, nella mia collezione, e ragazzi, ma ci sono davvero tante, tante altre cose, da poter stampare a tema potteriano, basta solamente spulciare i siti, magari entrare in una community, di stampanti 3D, e scambiarsi i file, con le altre persone, è davvero un mondo ragazzi, che mi sta piacendo tantissimo, adesso vi mostro anche, cosa arriva assieme alla stampante, arriva questa scatolina qui, con all'interno, tantissimi accessori, abbiamo il manuale di istruzioni, abbiamo questo baker in plastica, dove andare a versare la resina, e filtrare, una volta utilizzata, perché vanno eliminati tutti i residui, e per filtrarla, vengono inviati questi coni di carta, con una retina sulla punta, che va inserita qui, va versata la resina, che abbiamo nella vaschetta, e poi va rinserita nella bottiglia, ma oltre a questi imbuti, ci vengono inviate anche, ben due mascherine di protezione, ci vengono inviate due palette, una in metallo, e una in plastica, io ho sempre utilizzato quella in plastica, sia per pulire, il fondo della vaschetta, anche perché quella di metallo, andrebbe a bucare la vaschetta, sia per pulire il piatto di stampa, ma ci viene inviato anche, un pennellino, assieme alla bottiglia, di resina, per andare a pulire sempre, tutti i residui della vaschetta, perché deve essere sempre, molto molto pulita, quando la andrete a riposizionare, per la prossima stampa, io la pulisco, con un panno in microfibra, del sapone liquido per piatti, e un po' d'acqua, una volta rimossa tutta la resina, e poi vado ad asciugare, col panno in microfibra, per togliere tutti gli aloni, perché deve essere, il più pulita possibile, per poter evitare errori di stampa, poi viene fornito, anche questo pezzo di plastica, che è molto molto interessante, va inserito qui, una volta stampato il vostro pezzo, e lo potete andare a mettere qui, in modo che il pezzo, e la resina residua, vadano a gocciolare all'interno della vaschetta, così una volta finita la stampa, lo mettete in questa posizione per 10 minuti, in modo che colli la resina residua, e poi lo potete andare a rimuovere, staccare con la palettina, e avviare tutto il processo di lavaggio, poi arrivano anche, sì, delle mascherine, che in realtà sono queste, questa era una mascherina invece che ho utilizzato io, credevo fosse quella che, era inclusa nella confezione, e poi inviano, queste che sono delle piccole tronchesine, per rimuovere i residui di supporto, che potrebbero rimanere attaccati al pezzo, ma io non l'ho ancora usata, vengono inviati queste chiavi, e questi bulloni e viti di ricambio, per andare a sostituire, quando si usurerà completamente, il foglio di teflon, abbiamo questa chiave, che invece è quella che serve per allentare, e svitare, e riavvitare, appunto questi qui, questi due dadi qui, per la calibratura della stampante, e poi abbiamo una card, da utilizzare su My Mini Factory, questo sito dove trovate tantissimi file, anche a pagamento, e avrete un codice sconto del 10%, che io sinceramente non ho utilizzato, e poi, ultima cosa, ma non meno importante, questa pennina USB qui, che se non sbaglio è da 4 giga, con all'interno il programma C2Box, lo slicer, il programma che serve a realizzare i file adeguati, a stampare con questa stampante, e dove all'interno poi voi andrete a mettere i vostri file appunto da stampare. Come vi dicevo le resine ci sono davvero di tantissimi, tantissimi colori, le trovate sia come questa qua, rossa trasparente, bianca trasparente, anche di altri colori, la trovate anche completamente di colori pieni, come ad esempio quella color rosso, color avorio, color carne, nero, la trovate davvero di tantissimi colori, vi lascerò il link sotto in info box, ma cosa vi servirà esattamente per iniziare a stampare e a colorare i vostri oggetti poteriani o meno che siano? Oltre alla stampante, al kit che vi viene fornito con la stampante e alla resina ovviamente, vi servirà anche una lampada UV. Io ho acquistato questa qui su Amazon, è un faretto UV abbastanza potente, che vado ad attaccare semplicemente alla presa di corrente, abbiamo qui un tasto, e poi posiziono il mio pezzo su questa basetta girevole, che già avevo, ve lo ricorderete per i pop, e la lascio accesa a 10 minuti, col pezzo qui in rotazione, e poi il pezzo è pronto. Naturalmente vi lascerò il link a questo faretto in info box, perché ne ho visti diversi, ma questo era secondo me il migliore come qualità prezzo, e non costa tanto. Poi vi serviranno dei pennelli, io ho preso questi su Amazon, sono dei pennelli di precisione, di tantissime misure, in questa confezione ce ne sono ben nove, e poi è anche incluso una piccola tavolozza, non li avevo, non avevo pennelli di questo tipo, e quindi li ho ordinati, e poi ho preso da Tiger, ho acquistato questa colla, che è una sorta di Attack, che è quella che ho utilizzato per attaccare i tre pezzi del calice, l'ho pagata un euro, quindi non è costata niente, poi mi servirà un primer per l'acrilico, o comunque un primer per le plastiche, io ho acquistato questo qui, l'ho preso su Amazon, prima di poter colorare i pezzi, vanno trattati con un primer, perché altrimenti i colori acrilici non andranno ad attaccarsi alla superficie del pezzo, quindi molto molto importante utilizzare un primer. Poi ho acquistato anche dei colori, ho acquistato questi qui della Vallejo, o Vallejo, credo siano spagnoli, ma non sono sicuro, comunque mi hanno detto che sono tra i migliori, ho acquistato questi che sono degli inchiostri, che servono a dare le ombreggiature praticamente, vanno a tirare fuori tutte le ombre, vanno a scurire tutti quegli angolini, quegli anfratti, delle cose che andrete a stampare, e ci sono di vario colore, da utilizzare ovviamente sopra, se dipingete il calice di giallo, andrete ad utilizzare l'inchiostro giallo sopra, per evidenziare le parti in ombra, diciamo così. E poi ho acquistato sempre della stessa marca, sempre su Amazon, questi colori qui, che sono appunto tutti i colori base, che ci serviranno per andare a colorare i nostri pezzi, abbiamo l'oro, l'argento, abbiamo tutto lo spettro dei colori primari, eccetera, eccetera. E in questo caso le ho presi sempre su Amazon, ho trovato due bottigliette dello stesso colore per errore, mentre qui deve esserci un argento più scuro, più metallico, mentre ne hanno inserite due per errore uguale, ma ho contattato Amazon, mi hanno fatto un rimbosso parziale, e poi ho ordinato la bottiglietta mancante, sempre sul loro sito, quindi assistenza sempre al top. E ultima cosa, ho comprato questo qui, che è una finitura matte, quindi opaca, per i pezzi. Una volta dipinti, io li andrò a passare con questa finitura, sempre della stessa marca, della Vallejo, per andare a proteggere il pezzo. Quanto speso? Per tutta questa roba, ho speso circa 70 euro, però ragazzi, i colori, ho visto vari video, dureranno una vita, non finiranno mai, il primer, la stessa cosa, dura parecchio, quindi è una spesa, che viene fatta una volta, assieme alla stampante, ma poi la rifarete, molto molto più avanti nel tempo. Quindi, io sono davvero super super contento, non ero così eccitato, per un nuovo prodotto, da tanto tanto tempo, sono davvero super euforico, tantissime idee, e ragazzi, naturalmente, vi mostrerò tutto quello che stamperò in futuro, vi mostrerò come andrò a dipingere queste cose, ve le farò vedere finite, mi raccomando, seguitemi su Instagram, antonio.seria, perché metterò foto di tutto quello che andrò a realizzare, delle stampe, dei progetti che metterò in atto, ho già scaricato tantissime cose sul mio Mac, e ragazzi, qualora voi aveste già una stampante 3D, o acquisterete questa, che vi consiglio assolutamente, rapporto qualità-prezzo ottimo, assistenza ottima, rispondono subito, qualsiasi dubbio, domanda, sono lì pronti per aiutarvi, e ragazzi, davvero, qualora voi entraste nel mondo della stampa 3D, io, sono a vostra disposizione, sia per consigli, che per scambiarci i file, perché è davvero bellissimo, potersi scambiare i file degli oggetti, quindi, io potrei inviarvi il file del calice di fuoco, e voi potreste stamparvelo a casa vostra, ragazzi, questo è il futuro, e io sono super super convinto, che le stampanti 3D entreranno in tutte le nostre case, di questo ne sono più che convinto, e sono super super utili, e sono anche diventate molto accessibili, sia a livello economico, che anche a livello di utilizzo, perché se ci sono riuscito io nel giro di due giorni, ragazzi, davvero credetemi, ci può riuscire chiunque, e ragazzi, come vi dicevo, resto a vostra disposizione, spero di avervi aperto un mondo, che questa cosa possa entrare prepotentemente, anche nelle vostre case, così da poterci scambiare consigli, opinioni, file, chi più ne ha più ne metta, io ringrazio ancora tantissimo Illigo, per avermi inviato questa stampante, che utilizzerò nel miglior modo possibile, per portare altri contenuti qui sul canale, e ragazzi, mi raccomando, qualora voi aveste già dei file potteriani, contattatemi, mandatemeli, perché sono pronto a stamparli, e infatti adesso devo andare, mi sa, su Amazon, a fare un refill di resine, e di acquistare altre resine di altri colori, per realizzare la mia candela, ma anche tantissime altre cose, questo video credo sia durato un'eternità, ragazzi, grazie mille per averlo guardato, mi raccomando, sotto trovate l'info box, sia il codice sconto da utilizzare su Amazon, che tutti i link a tutte le cose che vi ho mostrato in questo video, e niente, io a questo punto vi do appuntamento a prestissimo, con tante altre novità, e vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, ciao! Ciao!